Ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione locale, in apertura minaccia la madre con un coltello denunciato un 19enne e quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Scauri di Minturno dove i carabinieri di Formia hanno denunciato un 19enne per i reati di minacce e tentata estorsione secondo le ricostruzioni il giovane si sarebbe scagliato contro la madre minacciandola con un coltello da cucina pretendendo dei soldi per l'acquisto probabilmente di sostanze stupefacenti Ieri mattina un piccolo torrente di fango si è riversato in mare a Formia su un tratto di spiaggia tra via Vindicio e via Tito Scipione molte le foto e video postati anche sui social da parte di bagnanti che si sono chiesti cosa stesse accadendo Situazione incresciosa già avvenuta in passato su cui il sindaco di Formia Paola Villa non ha certo atteso l'evolversi della situazione denunciando pubblicamente presunte difformità nell'esecuzione delle operazioni di spurgo oltre al pesante danno di immagine alla città di Formia in un periodo considerato dalla villa difficile di ripresa a seguito proprio della pandemia da coronavirus In serata è arrivata la replica di Acqua Latina che ha spiegato con tanto di dettagli tecnici come il fenomeno è da considerarsi privo di ogni pericolosità le acque del campo 25 ponti sono potabili derivate da qualità e costantemente monitorate nonché i detriti fanno sempre sapere da Acqua Latina presenti nel riversamento sono residui rocciosi del tutto naturali Torniamo alla cronaca perché nella giornata di lunedì a fondi i militari dell'arma dei carabinieri hanno denunciato a piede libero un 32enne il quale il 12 giugno scorso alla guida della propria autovettura era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti poi risultato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per questo denunciato a piede libero Blitz della guardia di finanza Ponza le fiamme gialle hanno bloccato e sequestrato un carico di pesce spada diretto a Formia sistemato a bordo di un furgone che si stava imbarcando sul Tetide il pesce catturato su un peschereccio dell'isola verrà dato in beneficenza la capitaneria di Porto sta inoltre effettuando dei controlli sul peschereccio da cui proveniva il pesce spada ancora da chiarire le ragioni del sequestro abbattere la notizia il portale h24 notizie.com dall'asle di Latina si conferma il trend considerato a questo punto positivo in tema di covid-19 anche nella giornata di ieri nel territorio provinciale non sono stati riscontrati nuovi casi di coronavirus rimane ferma anche l'asticella fortunatamente delle persone che non ce l'hanno fatta e soprattutto ancora a vuoto il reparto di terapia intensiva per quanto riguarda i pazienti covid andiamo allo sport appello accorato dei dirigenti dell'hc pallamano fondi franco zannella e vincenzo de santis un video messaggio diffuso tramite i social in cui chiedono dalla società sportiva fondana a sponsor e soprattutto alle istituzioni ma anche i cittadini di non lasciare sola la società sportiva che milita nel massimo campionato italiano di A1 il rischio è quello di non potersi iscrivere al prossimo campionato ascoltiamo insieme le parole dei dirigenti il covid sta distruggendo quanto con tanti sacrifici abbiamo costruito in 53 anni di storia perché la nostra attuale situazione economica non ci permetterà di iscriverci al prossimo campionato di serie A1 la nostra società è e deve essere un bando per tutta la nostra città un bene prezioso da tutelare per aver conquistato tanti successi e soprattutto per aver formato fisicamente, socialmente e moralmente tanti atleti questa era la nostra ultima notizia un saluto da Simone Nardone buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze appuntamento alla prossima edizione del nostro giornale radio